Una vittoria arrivata al termine di una stagione esaltante, non hanno mai mollato e adesso sono qui pronti a raccogliere i frutti del proprio lavoro. Gioia incontenibile dei protagonisti, vince della UEFA Champions League e prova per pochi eletti un traguardo da festeggiare da cui ripartire. Sono scene da brividi, sono immagini bellissime con i calciatori che si abbracciano quasi increduli e invece è tutto vero, sono proprio loro i campioni d'Europa. I giocatori sono sul podio e le immagini sono bellissime perché ci raccontano la difficoltà ovviamente nel trattenere l'euforia, l'adrenalina, la commozione. Perché vincere la UEFA Champions League è il massimo che possa capitare nella carriera di un calciatore. È un sogno che tutti hanno fin da bambini e che per loro si avvera adesso. Eh sì, sono attimi, quindi resteranno impressi per sempre nella testa. Successo cercato, voluto, non si sono mai arresi, meno di fronte alle difficoltà. E ora sono lì, a un passo dall'alzare al cielo quella coppa che tutti aspirano sin da bambini. Iniziano a dare i primi calci ad un pallone e hanno un obiettivo, quello più alto, quello più grande, quello più prestigioso, quello di questa sera. C'è la foto di gruppo con la coppa e porterà in questo momento. Un momento che è comunque indimenticabile.